E grazie a Dio stiamo facendo la preghiera, è stata fatta e siamo presenti qua. Ci sono varie persone che sono presenti, ne l'ha preparato anche lei di nuovo per noi, la ringraziamo. La ringraziamo per la sua gentilezza come l'altro ieri e anche oggi. I nostri bravi amici sono presenti, è stata fatta la lettura della parola e sono state fatte le varie domande, domande e risposte, persone che sono venute e sono andate. Poche persone ma buoni, pochi ma buoni. Il Signore Gesù era circondato da poche persone ma buone persone che erano i suoi apostoli e poi lui stesso ha detto che stretta la strada che porta al cielo, a Gesù, pochi sono quelli che la prendono. Noi preghiamo che molte persone siano salvate, non solo pochi, però la realtà dei fatti Gesù ha detto larga la strada che porta all'inferno e molti sono quelli che la prendono. Noi preghiamo che queste persone che sono qui presenti sono tra le persone salvate. Grazie a Dio per questo cibo, vedete c'è sempre abbondanza di tutto.